Munchi, non sei pettinato buono, ma che non sei... Te ne ho 15 anni, si porta una chiave, no? Te ne ho 15 anni. Vieni, bell'uccio, vieni. Ecco qua, grazie, faccio io, non ti preoccupare. Ecco qua, vi faccio tornare qui. Lo faccio assaltare, ci mancherebbe altro. Ecco qua, prego, accomodatevi. Accomodatevi, perfetto. Prego, come si stava a casa. Benissimo, ok, bene. Sì, 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 vai a me. Allora, ah sì, grazie. Venga qua lei, venga dietro, venga dietro, venga dietro. E' un po' so se ti è tratto ma... Mettole a casa. Per cortesio, ma spu, dì qua. Mario, a te ti dratterò benissimo, che devi andare a casa quando i lacini mi viene a casa. Ah sì. Allora, ah... Mi ricordi il tuo nome? Gerardo. Gerardo. Sì, si, sei sentito già... Giri, giri, giri. Gerardo, giri, giri. Alala, 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 alala. Bravo, su, 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 tratto. Giri, 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 giri. Ah sì, tassi, 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 tassi. Ah sì, giri, 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 giri. Gini! A casa c'era io! Mario, non faccio i bacini. Poteteci... Se non ho poco fastidio per tu. Ti puoi alzare sotto un donato? Faccio tutto così. E si, ti dici Mario, non ne affa niente più. Se sempre se non è fastidio, lui si mette le cosci alla parte di me. Grazie Mario, ricordate di me con gli stengaletti. Grazie. Allora, faccio qua. Giri. Che bad one? Un bacio. Mi sto trovando un bacio. La roba, che serata di merda, veramente. Pazzazzo. Ma io non ci sto facendo i pop con un culo e io mi trovo da un giro per dire qualcosa che non va. Va bene, però va bene lo stesso. Allora faccio qua, cortesia. Se ti puoi avvicinare poco poco a mano, ecco qua. Adesso giri, 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 giri. Bravo, faccio, bravo. Vieni che cazzo? Vieni qua, vieni qua. Ecco qua, mi ricordo il tuo nome. Paolo, Paolo, aspetta, Paolo, aspetta. Aspetta, Paolo, aspetta, aspetta. Ecco qua, aspetta, Paolo, aspetta, aspetta. Giri, 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 giri. Beh, tu hai queste spalle, è la parte migliore che tiri. Ti fa avrei poco un bacio, bravo. Sei buona a cucina. Ora, avvicinate un poco, poco, poco. Ecco qua. Ma rettinate un poco, ecco qua. Benissimo. Ora, fate un applauso a questi quattro valoressisti uomini. Allora, ora, al mio tren, non dovrete fare altro che appoggiare la vostra testa superiore Magari, è la persona che ha le vostre spalle. Magari, tiri, guongi guongi, perché a chi sto uccino però? Ecco, izzata, ma... Aizzi, Pascale, vado buoni allora, sono con lei. Sono con lei, Pascale, che ha fatto a Magari, Pascale, buongi guongi, vai. Vai, Pascale, vai, 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 Pascale, vai. Ecco, basta proprio quando tu andate, ecco, Pascale, in una cittiera sbottumata, Vai, Pascale, fa col film, è una cosa. Non è più capitato che stasera, che stasera spugliato, non si fa per una nocce! Mamma mia bella, mamma... Gerardo, che se dici a parte qua? Non ti dici a partito, non l'apra la ghiera su, che stasera? Eh, lì la mi ha dato poco su, no? Eh, ma scrive Paolo, vieni a qua. Eh, tutti ne apro l'uindo giusto, però vatti più a qua, eh. Botta qui c'è la capa, eh, eh. Vai, Vasca, vai, tocca a te, vai. Ecco qua, dice la verità. Vasca, senti qualcosa di duro? Non le so di spicci da saccare, fa sempre questo, cammini sempre le so di spicci. Ma no, non stai facendo muri di questo, ne vedi se c'è la cosa anche, eh. Ma che si dice? Tutto a posto, eh, to qua. Adesso, al mio tre, abbracciatevi, eh, come facessi, perché lui non ha disfogliato tutti e quattro, vi ricordate? 15 giorni a fare, non mi preoccupare. Ecco, benissimo, ci siamo quasi. Ora, man mano, io vi chiamerò uno alla volta, quando vi sentirete chiamare, non dovrete fare altro che stringere molto forte i glutei e tenere ben piantate e atterri i piedi. È chiaro, no, Marty? Al mio tre, ah, stringi il pack. Bravo, Marty. Tu hai il potere della sintesi, con questo mi piace. Fate un'altra volta un ottimissimo applauso che ha l'ultima domanda per l'attività. Ci sono le mogli presenti in sala? C'è un copacquato due film, non stanno. Com'è possibile? Due vuoi niente? Perfetto, va bene il rossissimo. Che l'altro già soffiuto. Allora, ci siamo. Allora, il pubblico vi accompagnerà. Guardarello? No, guardarello lo accompagno più tardi. Io e Mare facciamo questo gioco da 35 anni. Mi stranzi. Allora, oh, 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 un attimo solo. Guarda, a posta Serafica e Paoletta accadere. È molto a passare. È stato qualche pascista. No, è a metterla male, se no ti fai male, Paoletta. Ah, ecco qua. Allora, ci siamo? Oh, 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 oh. Vai Paoletta, a stringa, a stringa. Oh, i piedi anderi. Oh, aiz, aiz, no, aiz, 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 aiz. Oh, 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 oh. E pure. Ce ne è adesso cominciano... No, ciao ciao. Sca tutti comunque l'eva. Non so questo. E cosa vuoi fare? Paolo, va aoredino e entra una via. Passi una po audiobooka? Beh, mi prendi un po' di firedatino. See. Oh, 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 oh. E, starla o nove a me! E, starla o nove a me! Olé alla grande! Mariettino anche a te! Oooooooooooooooooooo! Come va? Come va? Che tonacchi! Che tonacchi! Attimo su! Pasqua ci vi strapponde un altro! Che succede? Mi sono dovuto... mi sono preoccupato veramente! Ci siamo! Ci siamo Pasqua posso riprendere! Ok! Paola, voi capite come funziona? Che re? Quante ore? Due ore e mezza! Questa sera di case! Ma come ce ne voglio! Allora, tu un po' di unità! Ma mica hai papato per stacca stasera! Puro! Te l'hanno offerta e ti hanno mandato la stessa! Ma vale? Ti l'hanno fatta a posta! E basta! Uno, due, tocca a te! Bravo Paoletto! Mariettino tocca a te! Olé alla grande! Gerardo tocca a te! Olé alla grande! Ti voglio raccontarlo! Non fate che metti ci sei! Ma sono distratto! C'è boffa! E' un po' di unità! Puffa, schifo subito! Ecco qua! Pasqua ci sei! Lauro! Tu un po' di mei! Va, vai, pasqua! Oh! 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 Grazie.